90 fucili e 60 pistole per un totale di 150 armi da fuoco sono state inviate all'arrottamazione da parte della divisione amministrativa di Caltanissetta della Polizia di Stato. Questo l'esito dei controlli che gli investigatori hanno effettuato negli ultimi mesi sui residenti nella nostra provincia che detengono armi comuni da sparo. Una trentina le armi che i poliziotti hanno sequestrato a seguito di controlli legati a vicende di liti in famiglie e maltrattamenti, mentre in altri casi sono stati i cittadini stessi a consegnare le armi in loro possesso. Dal 14 settembre 2019 infatti chi detiene armi deve presentare ogni 5 anni il certificato medico di idonità psicofisica alla detenzione. La certificazione deve attestare che il richiedente non soffra di malattie mentali o di patologie che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Inoltre chi detiene armi non deve essere assuntore anche occasionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e nemmeno deve abusare di alcolici. Il certificato medico è rilasciato dall'ufficio medico legale dell'Easpodo o medico militare della polizia di stato del corpo dei vigili del fuoco. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia di data non anteriore a tre mesi. Sono esentati dall'obbligo di presentazione i detentori che siano anche titolari di licenza di portodarmi per caccia, sport e difesa personale in corso di validità. In caso di licenza non più rinnovata i cinque anni decorrono dalla scadenza dell'ultimo rinnovo. I possessori di armi che non consegnano il certificato agli uffici di polizia o alla stazione dei carabinieri riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 60 giorni la certificazione non sarà presentata, le armi saranno ritirate cautelativamente dalle forze di polizia e saranno segnalate al prefetto per la successiva emissione del divieto di detenzione armi. Nel caso che il detentore non voglia più la disponibilità dell'arma e non trovi una persona munita di idoneo titolo di polizia a cui cederla, anche a titolo gratuito, potrà richiedere agli stessi uffici di polizia e carabinieri il ritiro per la successiva rotamazione.